Una bella opportunità per la nostra regione, questa partita che si terrà il 17 d'agosto nello Stadio delle Palme di San Benedetto. Il rugby è diventato per la nostra regione uno sport importante, tanti ragazzi che lo praticano. Un bel movimento di uno sport che ha sempre saputo coniugare meglio di ogni altro i valori sportivi. In campo grande aggressività agonistica, ma poi un terzo tempo dove si è tutti amici. E' quello che conta di più. Poterlo fare con una manifestazione internazionale che accende un grande riflettore sulla nostra regione è per noi un grande piacere. Speriamo che sia un buon viatico anche per la nazionale perché all'indomani di questa partita si avvierà tutto il percorso del mondiale. Per noi è ancora un'occasione per sottolineare quanto attraverso lo sport si possa fare per i giovani e i meno giovani. Per in questo caso l'immagine della regione e quindi anche in termini economici un valore aggiunto perché appunto racconta la bellezza del nostro territorio.